Mercurio, piombo e diossine. La bomba ecologica di Bussi torna alla ribalta della cronaca dopo l'ordinanza del 22 luglio firmata dal comandante della polizia provinciale Giulio Onorati che impone alla Edison di intervenire entro 60 giorni proprio per frenare la contaminazione. A certificarlo l'Arta che sulla base delle ultime analisi ha rilevato una contaminazione molto importante nel fiume Tirino con concentrazione di mercurio ben oltre il valore massimo. Da qui la firma dell'ordinanza. Comandante, cosa dice questa ordinanza? L'ordinanza identifica innanzitutto il presunto responsabile della contaminazione che è la società Edison SPA. Indica anche le motivazioni che hanno portato alla identificazione, quindi la contaminazione dei sedimenti del fiume Tirino che è derivante dai rifiuti depositati nelle discariche 2A2B e le aree limitrofe. Il nesso di casualità è l'applicazione del principio comunitario più probabile che non e quindi poi le conseguenti attività che la Edison deve fare per mettere in sicurezza queste aree e cioè la rimozione prima di tutto dei sedimenti contaminati e il ripristino con materiale altrettanto idoneo e poi uno studio monitoraggio sulla fauna ittica per le conseguenze che ci sono state. Insomma ha ribadito il principio comunitario di chi inquina paga ovvero deve bonificare un inquinamento ancora fuori controllo degli oltre 10 ettari delle due discariche nonostante alcuni interventi già adottati. Inoltre il 2 agosto ci sarà un nuovo sopralluogo congiunto Edison Arta e Polizia Provinciale proprio per studiare le attività che dovrà fare Edison. Visto che sono tanti anni che si parla di questa discarica secondo lei dopo questo sopralluogo e l'inizio da parte di Edison almeno questi sono gli intendimenti di bonificare l'area la tempistica qual è? Non posso dire la tempistica perché sicuramente è lunga e complessa e articolata ma posso dire questo già sulla Tremonti la Edison sta intervenendo secondo le direttive del ministero e di tutti gli enti partecipanti anche sulle discariche 2A2B e le aree limiti dove sta procedendo a fare tutte le attività di messa in sicurezza e poi di bonifica quindi sicuramente anche su queste aree su queste nuove aree e su tutte quelle che verranno successivamente identificate il responsabile che viene identificato procede comunque con i tempi possibili e necessari. Quando si parla di questa discarica si usa spesso o meglio lo usiamo noi giornalisti bomba ecologica è esagerato? Sicuramente dalle discariche soprattutto da queste discariche dove sono stati depositati i rifiuti derivanti dall'attività industriale sicuramente c'è una contaminazione che deriva da mercurio piombo, diossine, PCB e quant'altro quindi sicuramente è un problema relativamente al sistema ecologico dell'ambiente quindi è un danno sicuramente enorme.